Grazie per la linea, buonasera, bentrovati. Siamo in collegamento col biologo e ricercatore Samuele Venturini per parlare di fenomeni meteorologici. Buonasera Samuele. Buonasera a tutti. Parliamo degli episodi recenti in cui dei fulmini hanno provocato anche delle morti. Quindi che cosa sono innanzitutto i fulmini e come si formano? Sono fenomeni atmosferici elettrostatici. Ma come si formano? Un fulmine è causato dall'effetto triboelettrico, ossia le correnti anali e discensionali che ha l'interno di una nube, tipicamente un cumulonembo temporalesco, favoriscono lo sfregamento, l'attrito e la collisione delle varie particelle presenti all'interno della nube, ossia cristalli di ghiaccio e goccioline d'acqua. In questo modo si ha un passaggio di carica elettrica e all'interno della nube le cariche si distribuiscono, quindi cariche positive e negative, creando una differenza di potenziale. Per riequilibrare, ossia per compensare tale differenza, ecco che si genera la scarica elettrica, ossia il fulmine. Abbiamo quindi fulmini all'interno della nube, i tipici lampi, ossia fulmini tra nubi e poi fulmini nube e suolo, che sono quelli che impattano maggiormente su cose e persone. Ci sono zone più soggette ai fulmini e soprattutto esiste un periodo dell'anno in cui si manifestano maggiormente? Tipicamente le zone più soggette risiedono ai tropici, dove avvengono in circa il 70% dei fulmini. Brasile, Venezuela, Singapore, Florida, Messico per esempio. Questo perché vi sono zone di convettività atmosferica. Per quanto riguarda l'Italia, invece, le regioni più soggette sono il Friuli-Venezia-Giulia, la Lombardia con i laghi, il Lazio e la fascia delle prealpe e degli appennini. Per quanto riguarda invece la periodicità, ecco che possono accadere tutto l'anno, ma tipicamente in estate, ossia da giugno ad agosto nell'emisfero settentrionale, da dicembre a febbraio nell'emisfero meridionale. Ora le chiedo se è un fenomeno in aumento e poi che precauzioni si possono prendere. È difficile da dire se la frequenza di questo fenomeno è in aumento oppure. Pensa solo che al mondo accadono 44 fulmini al secondo. E per quanto riguarda l'Italia, ve ne sono 1.600.000 all'anno. Queste sono stime. Naturalmente non possiamo basarci sul numero di vittime, perché nel mondo sono all'incirca 4.000, mentre in Italia sono all'incirca 20-30. Però sempre anche dalla presenza delle persone, dai loro comportamenti. Ecco che è importante utilizzare delle precauzioni. Per esempio restare chiusi in casa quando c'è il temporale con fulmini e quindi stare lontano da finestre, da rubinetti e da strumenti intronici. Se sei in macchina col tetto coperto restare in macchina, altrimenti se sei fuori non toccare i metalli e andare verso il fondo valle. Grazie Samuele per il suo contributo. Ora la salutiamo. Grazie per vederci. E restituiamo la linea allo studio.